Non sei solo un essere fisico che vive in un mondo fisico. Sei composto di energia ed esisti in un universo in cui tutto vibra. Hai la capacità di inviare e ricevere energia. Uno dei tuoi più grandi ostacoli è capire come vivere come energia. Essere in un mondo in cui tutto è costituito da energia significa che ogni parola che pronunci e ogni azione che compi dalle più semplici come respirare, camminare e mangiare fino alla complessità delle emozioni e dei pensieri richiede energia. Queste emozioni e pensieri sia positivi che negativi portano con sé le proprie vibrazioni energetiche che possono plasmare le tue esperienze ed avere un impatto sul mondo intorno a te. E attraverso la padronanza delle tue vibrazioni puoi sbloccare un mondo di potenziale infinito. Pensa a te stesso come un trasmettitore di energia. In ogni istante invii segnali che parlano dell'essenza di te stesso all'universo. Questi segnali possono attrarre o respingere altre entità energetiche, eventi ed esperienze. Se la tua parte energetica irradia rabbia e frustrazione, anche la tua realtà fisica lo rifletterà. Naturalmente, attiri verso di te cose che sono in sintonia con ciò che senti e con chi sei. Se emani un'energia di ricchezza e abbondanza, la tua vita lo rifletterà portando più ricchezza e abbondanza nella tua realtà fisica. Allo stesso modo, se irradi energia negativa o discordante, tenderai a respingere esperienze che non corrispondono al tuo stato d'essere. Una volta compreso che la tua parte vibrante attrae cose simili, diventa evidente che se desideri un'esperienza diversa nella tua vita, devi cambiare i segnali che stai inviando. In altre parole, se vuoi attirare circostanze o risultati diversi, devi adeguare i tuoi pensieri, emozioni e l'energia generale per allinearti a ciò che desideri sperimentare, cambiando consapevolmente i segnali che emetti. Puoi creare uno spostamento nei modelli ed esperienze che entrano nella tua vita. Sei molto più potente di quanto tu possa immaginare. Comprendendo come trasmettere le vibrazioni della tua vita desiderata, puoi cambiare radicalmente il modo in cui vivi, il mondo e allinearti con la tua vita ideale. Infatti, i tuoi pensieri non sono solo processi mentali casuali. Portano energie e vibrazioni. Ogni pensiero che generi scatena una specifica frequenza di vibrazione nei neuroni del tuo cervello. Questa attività energetica crea una potente forza che si allinea con le esperienze corrispondenti e le attira verso di te. In sostanza, l'energia e le vibrazioni emesse dai tuoi pensieri agiscono come magneti, attirando e manifestando l'essenza di ciò a cui ti concentri. Comprendendo questo principio, puoi indirizzare consapevolmente i tuoi pensieri verso gli esiti desiderati. Sfruttando il potere dei tuoi pensieri per plasmare la tua realtà. I tuoi pensieri sono mattoni della realtà. C'è un detto. Guarda i tuoi pensieri, diventano parole. Guarda le tue parole, diventano azioni. Guarda le tue azioni, diventano abitudini. Guarda le tue abitudini, diventano il tuo carattere. Guarda il tuo carattere, diventa il tuo destino. I tuoi pensieri sono i semi che manifestano il tuo futuro. È importante essere consapevoli di come allocare la tua energia perché essa segue la tua attenzione. Alla fine, spetta a te decidere dove dirigere la tua energia. Hai la libertà di scegliere e persino l'atto di prendere la decisione richiede energia. Albert Einstein disse una volta Tutto è energia. Infatti, anche guardare questo video richiede energia. L'energia su cui ci concentriamo plasmerà alla fine la nostra realtà. Possiedi il potere di guidare e gestire questa energia decidendo dove concentrarla e come utilizzarla. In questo modo, puoi indirizzare efficacemente la tua energia verso i tuoi obiettivi e aspirazioni. È importante riconoscere che hai il potere di controllare la tua energia. Quando ti senti giù, puoi dirigere la tua attenzione verso qualcosa che solleva il tuo spirito. Puoi anche influenzare la tua energia trascorrendo del tempo con persone positive, partecipando ad attività che ti portano gioia e circondandoti di messaggi stimolanti. Proteggere la tua energia è altrettanto importante. Imponi limiti. Evita situazioni e relazioni negative e pratica l'autocura. L'universo si allinea a tuo favore portandoti tutto ciò che risuona con la tua energia. Avere fiducia e fede nel potere dell'energia può creare trasformazioni notevoli nella tua vita. Credendo nell'energia, riconosci il tuo diritto di ricevere e la capacità di donare generosamente agli altri. Inizia a percepire che c'è di più nella vita di ciò che appare e che è in gioco una forza più grande. Connettiti con qualcosa di vasto che possiede una conoscenza, comprensione e amore illimitati. Credere nell'energia porta notevoli cambiamenti nel tuo benessere. La tua energia si allinea. Le tue cellule rigenerano. La tua salute generale migliora. I sentimenti di disperazione, confusione e delusione svaniscono. La tua energia diventa chiara, pura e scorre fluidamente come un ruscello di montagna. Abbracci il tuo valore e la tua dignità. E la gioia diventa una presenza costante nella tua vita. Saggezza e pace interiore arricchiscono il tuo essere e la chiarezza pervade i tuoi pensieri. Questo è l'impatto profondo dell'energia e quando decidi di fidarti di essa, tutto accade in modo naturale e al suo posto. Quando confidi nell'universo e hai fede nelle tue capacità, la tua energia diventa allo stesso tempo potente e serena. saggezza e tranquillità emergono dall'interno. I tuoi pensieri si trasformano in convinzioni e i tuoi sogni iniziano a materializzarsi nella tua realtà. Credendo nelle tue aspirazioni e agendo concretamente verso di esse, hai la capacità di creare trasformazioni significative nella tua vita e realizzare tutto ciò che desideri ardentemente. Abbi fiducia in te stesso e nella guida dell'universo per condurti verso lo scopo e scoprire la tua vera missione in questo mondo. Chiudi gli occhi e connettiti con il tuo sé interiore. Senti l'energia che scorre attraverso di te. Senti l'amore, la forza e la luminosità. Sei energia con la capacità di creare la tua realtà e realizzare le tue aspirazioni. Sei capace, degno e amato. Credi in te stesso e nell'universo e osserva la magia svilupparsi nella tua vita per trasformare i tuoi pensieri in convinzioni. È cruciale praticare attivamente l'atto di credere. Concedi fiducia nelle capacità dell'universo di provvedere alle tue esigenze. Riconosci i tuoi desideri e sogni potenziali e abbraccia il fatto che meriti amore e felicità. In questo modo puoi coltivare una profonda pace e gioia. Ricorda! Non sei una goccia nell'oceano. Sei l'intero oceano in una goccia. Lascia che le tue vibrazioni eccheggino nell'eternità e che il tuo viaggio sia fatto riscoperte, crescita e trasformazioni senza fine. L'universo attende con impazienza le tue armoniose vibrazioni. Pronto a co-creare una realtà al di là delle tue aspettative più sfrenate? Scegliendo e allineando consapevolmente i tuoi pensieri, emozioni e convinzioni con la vibrazione desiderata, puoi attrarre e manifestare esperienze corrispondenti nella tua vita. Se sei ancora qui, apprezzerei molto il tuo sostegno attraverso la condivisione del video ed un commento. Significherebbe il mondo per me. Grazie per aver dedicato del tempo a questo video. Spero che tu abbia una giornata assolutamente meravigliosa. Iscriviti al canale per vedere i prossimi video e ciao!